Ciao, cercherò di spiegarti come funzionano i menu a cascata Allora quando io ho un qualsiasi tipo di menu o per meglio dire una lista una lista fatta di nomi ad esempio e sotto metto da qualche altro punto questa è una banale lista creata da me da qualsiasi altro punto dell'excel io posso creare un riferimento a questa lista attraverso la convalida dei dati quindi vado nei dati, vado a prendere la convalida e gli vado a dire che invece di qualsiasi valore prende un elenco e nel tab origine gli vado a dire, nell'etichetta origine gli vado a dire prendimi questi valori assoluti in questo caso ok? significa che da qui io avrò esattamente questi valori ed è quello che sicuramente già sai fare come fare allora a interlacciare i valori tra di loro negozio 1 scelgo la pescheria che fa parte del negozio 1 oppure nel negozio 2 scegliere le altre allora prima di tutto mi creo un foglio con liste dove gli metto le mie liste che cosa c'è da sapere? allora c'è da sapere questo che per funzionare bene questi due metodi bisogna utilizzare la formula di Excel che si chiama indiretto e nelle formule la gestione dei nomi di Excel che è praticamente noi andiamo a dare un nome ad una determinata lista o ad un determinato range di utilizzo vediamo nella pratica come fare allora prima di tutto vado qui e mi creo questa struttura per mettere i dati cosa voglio fare? voglio avere la mia lista dei negozi che può essere immensa in base alla lista dei negozi qui mi ricreerò in orizzontale tutta la lista in questo caso mi sono fermato altrimenti andiamo avanti tieni presente che penso si comporti molto male Excel nel caso ci siano degli spazi o dei caratteri speciali qui all'interno dei nomi nella gestione dei nomi perché se io vado a dare un nuovo nome a qualcosa e gli do uno spazio non me lo dovrebbe accettare con lo spazio non me lo accetta quindi non posso purtroppo utilizzare gli spazi ed è questa una limitazione che è quella che ti dicevo ci saranno delle limitazioni però intanto non stiamo utilizzando neanche una riga di codice allora lista di negozi mi faccio la mia lista e gli vado a dire gestione nome vado a definire un nome che ho già definito non faccio altro che dirgli chiamami questa lista negozi esattamente come l'ho chiamata qui sopra con le stesse iniziali maiuscole per non fare sbagli io ti consiglio di utilizzare tutto il minuscolo farlo funzionare e poi modificarlo utilizza tutti i minuscoli tutto il minuscolo e non fai problemi è tutto attaccato e quindi se tu devi creare un qualsiasi elenco così non si capisce chi è allora l'iniziale della seconda nome lo metti in maiuscolo così eviti di avere problemi seleziono quello che mi serve e gli vado a dare un nome nella gestione dei nomi io gli ho dato lista negozi perfetto da qui vado l'ho chiamato controller negozio mi creo la struttura di visualizzazione finale e vado a collegarlo io la stessa cosa guarda me la ricreo in un altro foglio così te lo faccio capire ok negozio cosa faccio devo collegarlo alla lista e lo collego se seleziono solamente questa cella avrà risultato solo su questa cella lo seleziono su tutta la polonna vado nei dati con valida ok è una cosa che mi diceva perché già ho copiato tutto ho copiato invece di solo i valori ok cosa ho fatto qua uguale alla lista negozi ovvero c'è già adesso te lo faccio da capo te lo cancello e te lo ricreavo non c'è nullo elenco origine uguale uguale a che cosa uguale a come ho chiamato qui questa lista nei nomi quindi io l'ho chiamata lista negozi me lo copio vado qui gli vado a dire usami la convalida elenco uguale lista negozi e questa è la cosa più banale che sicuramente già sapevi fare e qui mi andrà a creare l'elenco che andrà a prendere da qua secondo mani voglio aggiungere un altro negozio scrivo negozio 4 e che cosa faccio devo comunque collegarlo ai nomi io vado a dire che il negozio 4 nella lista dei negozi invece di arrivare fino a 5 arriva fino a 6 e poi gli vado a dire fino a 6 perfetto ho allargato la lista se andrò a vedere nel foglio ci avrò un negozio in più e quindi un nome in più benissimo adesso devo indirettamente allacciarlo a questa quindi cosa andrò a dire andrò a dire che nel negozio 1 ci sarà la lista del negozio 1 prima di tutto cosa vado vado nelle liste e mi creo l'intestazione che intelligentemente qui sopra io ho detto che è un reparto ok quindi che cosa andrò a dire a dire che nel negozio 1 e lo scriverò uguale a questo devono essere uguali quindi faccio un copa e incolla proprio per il problema di prima se gli metti uno spazio da qualche parte un carattere speciale non funziona io vado a dire che questa sarà la mia lista dei reparti che può essere quanto voglio per evitare di fare confusione ho diviso tutti i reparti in nove reparti che non sono uguali tra di loro selezione gestione nome aggiungo quindi lo definisco l'ho già definito chiamandolo negozio 1 quindi con lo stesso nome è scritto uguale quindi anche qui farò un copia e incolla e qui andrò a vedere che i valori saranno questi che cosa succede? come collego questi due aspetti li collego quando vado qui e gli vado a dire adesso qua mi vai a convalidare i risultati indiretti di questa cella dati convalida elenco della cella A2 ok? è giusto ma manca la formula indiretto apro parentesi A2 mi muovo con le freccette oppure lo scrivo e chiudo la parentesi i riferimenti che tu vedi con i come si chiamano questi i dollari sono riferimenti assoluti possono anche non esserci in questo caso do l'ok e che cosa ho fatto? ho collegato ecco non funziona ho collegato questo a questo andiamo a vedere cosa ho sbagliato ah giusto ho sbagliato a mettere ovviamente il problema è banale non è B2 è questo che devo collegare A2 A2 quindi vado a collegare negozio 1 a questo come funziona il questa formula funziona che mi dice vami a cercare indirettamente i riferimenti A2 quindi vami a prendere la 2 negozio 1 con la scritta negozio 1 dove me la vai a cercare me la vai a cercare nella gestione dei nomi quando la trovi applichi quello che c'è scritto qua dentro che è quello che c'è scritto qua quando io ti ho fatto creare la gestione dei nomi ti ho fatto definire i nomi ti ho fatto definire anche negozio 1 così ci accorgiamo che stiamo definendo gli stessi dati altrimenti potevi benissimamente partire dalla cella A3 dalla cella B3 da questo insieme cosa che non ti ho fatto fare la stessa cosa andrà a finire qua però che cosa dovrò fare prima mi dovrò aggregare i nomi aggregare i dati quindi andrò a crearmi per ogni reparto quindi quando ne sono 9 9 reparti titolo del reparto esattamente come si chiama qui facendo un copia e incolla e dopo gli metterò in questo caso i prodotti che qua posso chiamare prodotti e tutto e andrò a crearmi all'infinito fin quando ti serve i vari prodotti dei reparti una volta creato lo associ di qua nello stesso modo vai a Dichi attenzione prima devi dirgli che questo è orto che sarà questo quindi qua il collegamento è partendo dall'inizio trovami negozio 1 su questa banda una volta che me l'hai trovata mi fai vedere al menu quello che c'è scritto sotto dopodiché qui come funzionerà trovami una volta che avrai selezionato nel menu uno di questi ad esempio pescheria trovami su quest'altra riga la stessa parola pescheria e fammi vedere quello che c'è sotto se ne va di conseguenza che se tu dovrai fare la tua domanda qui gli metterai una domanda che io non so come la aggregherai magari per l'orto quindi per i finocchi dovrai scrivere i finocchi e sotto sono puliti punto interrogativo sono sporchi punto esclamativo no e andrai avanti a farti le due domande e allora questo qui per fartelo capire meglio te lo divido così no non così così e qua anche ti farei domande ad esempio domanda tutte le domande oppure quindi sull'insalata quindi sempre del reparto orto dell'insalata è verde è rossa ok metto solo due domande altrimenti pazzisco e qui nel foglio 3 gli andrei a dire allora qua è negozio 1 se è negozio 2 mi trova quello che c'è qui nel negozio 2 questi qua questi qua poi me li replico qui quindi gioielleria c'ho scritto qualcosa se è pizzeria c'ho scritto qualcosa automaticamente qui ancora non l'ho collegato e lo collego dati con valida elengo uguale indiretto di cosa di quello di fianco quindi di questo scrivimelo bene indiretto di questo chiuso parentesi ok vediamo se va giustamente qua è vuoto e mi dice che non va della gioielleria prendi gli anelli adesso se io voglio essere trovarmi in qualcosa di utile qui per farti vedere il funzionamento andrò a prendere i finocchi o l'insalata quindi farò il collegamento finocchi e insalata qui sarà domanda dell'orto dell'orto ci saranno solo questi due selezionabili ci saranno i finocchi sono puliti o l'insalata è vera allora negozio quindi stiamo parlando del negozio 1 scegliamo negozio 1 stiamo parlando dell'orto quindi scegliamo orto e qua posso scegliere i finocchi benissimo qua che cosa faccio la domanda anche qui la collego quindi vado a collegarla prima di collegarla devo andargli a dire che questa è la selezione dei finocchi quindi vado a mettere nelle formule definisci nome finocchi ok mi trovo con finocchi sì mi troverò nella gestione dei nomi i finocchi che fanno sono puliti o sono sporchi ok quindi andrà a prendere finocchi l'intestazione finocchi l'andrà a prendere qua perché qua ha scelto finocchi quindi questo finocchio la formula indiretta l'andrà a prendere su questa sulla base della prima gestione dei nomi che abbiamo messo ho immesso il nome qua vado a collegarlo dati con valida elenco uguale indiretto entro parentesi sui finocchi chiudo la parentesi ok finocchi sono puliti o sono sporchi eh funziona sì e poi posso andare avanti giudizio giudizio in questo caso è più facile il giudizio perché sarà solo sì e no quindi su tutta la colonna magari me lo creo qua perché non voglio andare alla fine giudizio mi creo solo sì e no mi raccomando sì con l'accento ok e il no e mi andrò a dire qua collegami questo è facile perché è la convalida principale addirittura potevo anche scriverlo qua invece di facevo me lo facevo io l'elenco allora convalida e non me lo dice ok allora faccio un po' più difficile formule anzi lo chiamo da qua aggiungi nome definisci giudizio perfetto vado nel foglio qua io vado a dire convalidami giudizio e basta elenco uguale maiuscola giudizio e qua ci sarà sì e no e sarà per tutte non è per tutte perché dovevo selezionare tutto per farlo ecco sì vediamo se me lo fai in automatico perfetto no sì vedi oh in questo modo funziona qua la domanda la allunghi ci puoi mettere tutto quello che vuoi una volta scritto bello che una volta che lo modifichi qua una volta che lo modifichi qua tu te lo ritrovi anche di qua quando lo vai a selezionare perché non te lo cancella in automatico però te lo trovi in una lista di scelta poi quando ti darà fastidio trovarti anche la casella di controllo possiamo chiamarla te la vai a eliminare dalla gestione dei nomi gestione dei nomi dici guarda non lo voglio più l'intestazione parte da oh attenzione a non usare è un problema perché se usi le freccette ti crea le se usi le freccette ti crea ok annullo tutto perché ho fatto confusione vado qui dicevamo finocchi non voglio utilizzarlo tutto lo utilizzo a metà gestione dei nomi finocchi prendi solamente la 3 e la 4 però me lo devo fare così che è più bello ok andiamo a vedere se funziona con i miei finocchi e non me lo fa vedere più è così anche gli altri gli altri ci sono però orto ok allora non è semplice però se ti rivedi il video riesci a capire quello che ti manca e comunque sono a disposizione per aiutarti ciao ciao